Quei ninja, ti apposto? Come? Forza così brutto, sono confuso, mi piace. Benvenuto nel team. Non ce lo faccio. Ragazzi, oggi dobbiamo preparare tutti quanti i fazzoletti. Aspetta, sto già piangendo perché c'ho sonno. Anch'io ho appena sbadigliato e quindi ho gli occhi lucidi. E praticamente oggi faremo la reaction ai ricordi di Fortnite. Alla stagione 0 e alla stagione 1, quando il 99% di noi non giocava. Siamo qui insieme a Fra. Ciao splendidi. E ragazzi, se non arriviamo a 10.000 mi piace, sono offeso. E vi ricordo che se inserite il codice shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Fra preparati, fazzoletti alla mano e iniziamo. Aspetta, aspetta, chiedi occhi, chiedi occhi, chiedi occhi, chiedi occhi. Come season zero? Guarda la safe che sembrava un alveare. Wow. Spettacolo. Attenzione, ninja, il vecchio ninja, laga. Uè ninja, ti ha posto? Hai fatto un pochino più di soldini da quel momento fino ad ora, eh? Sei tipo ricco. Ma che c'è chi ne ha sparato? Ma che... Nessuno buildava, raga, tutti strani, tutti navi. Guarda che fortino! Bro. Non ci credo. Ma guarda come è ditato il Pilate di fianco. Ma ha fatto un castello questo, altro che un fortino. Immaginate vederlo giocare. Mamma mia. Ma raga, era tutto diversissimo. Solo versus squad con i cecchini, doppio pompa, raga. Oh mio Dio. Vai, double pump, double pump! Grande! Vai, nemmeno si usavano i materiali, ci si nascondeva dietro gli alberi. Bro ha un HP. Forza così, bro. Zero building, solo nasconding. Questo qua è tipo il maschio della Renegade Rider, se non sbaglio. Il Renegade do riderino, è vero, è vero. Esatto. Cosa? L'hanno scopato. Bro. Daikon contro Ninja. Daikon, ragazzi, vi ricordo che lui è quello che ha inventato il double pump. Get out of my face, ninja. What do you mean? Tra l'altro questa skin era rarissima un tempo. Mamma mia. Attenzione. Vai, ninja. Era l'unico che buildava un pochino. Poi... Ma? Ma? Ma quando? Ma come? Guarda quanto si arrabbiava. Ma non ci sfuglia, bro. No. Non ci sfuglio. Non ci credo. Ma come ha fatto? E perché ha un uno dopo lo ha zero kill così sembra che abbia dieci kill? Sono confuso. Bro, bro. Anche noi dobbiamo fare così. Ok. Per la scena. È per la scena, bro. Mi piace. E perché c'è un Babbo Natale? Raga, è tutto strano. Da sti dipot. Ok. Guarda le piattaforme. Non ci sono più ora. E le sue trappole. Raga, raga, raga. Guardate. Ragazzi, guardate la trappola elettrica. No, dovete assolutamente scrivermi nei commenti chi di voi se la ricorda. Io sì, l'ho usata un po' di volte. Ok, ragazzi. Vediamo ancora Meat. Che lui aveva questa cosa che zoomava il mierino alla parte destra dello schermo. Ha più occhi che faccia in questo momento. Double pump. Mamma mia, quant'era soddisfacente. Che faceva 80. Da SJ questi qua, te lo dico io. Vai, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Benvenuto nel team. Vai, vai. Ok. Ah, è Nick Merckx. Non so chi sia. Oddio che strano a vederlo così. Dottor Lu... Oddio, c'era... Raga, c'era una sfida tra Dottor Lupo e Ninja in cui praticamente si uccidevano con l'impulso. Sempre. Davvero? Sì. E questo? Ma guarda come Bill... Non buildava, non buildava, non buildava. Non builda, non builda, non builda, non builda, non builda. Ma perché facevano così fatica a buildare tutti? Uh. Però con i no scope se la cavavano. Cosa? Ah, team, team è un matto. Team è un matto. Sì, ma... Ma che cosa sta... Guarda, guarda, guarda. Tu dimmi, sei normale una persona che fa queste cose? Non è normale, è un matto. È un matto. Sì, ma sta facendo una distruzione incredibile di massa. È un matto, bro, è un matto. Mamma mia. Ok, se n'è andato, ha fatto troppe kill. Ok, non capisco cosa sia. È tipo il rocket launcher con il C4, capito? Ma il pompa da così lontano che faceva 120, ma da quando? Bro, era quello epico d'un tempo. Altro che quello di adesso che ti fa 30 da vicino. Altro che bro. Cosa? Io avrei aperto un uovo di Pasqua, te lo giuro. Ma Dottor Lupo è ancora capace a giocare a Fortnite ora. Ma hai visto cosa ha fatto? Sì. È entrato dalla finestra cosa fa, non lo so. Oddio, c'è Thanos. C'è Thanos, sì, bro. No, 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 no. Allora, o slasera o slasera. Ecco, questo era il modo giusto per distruggere Thanos. Che è, bro. Vai, vai, vai. No, bro, no, bro. Mamma mia. Non capisco, Ninja. È diventata una gru, diventata. No. Vai, vai. No, zio, no, zio. Li distrugge, che tra l'altro non si prendevano ancora le kill così. No, zio, no, zio. Ah no, le contava già le kill. No, zio. Che bello. Comunque è miglior due di sempre, Dottor Lupo e Ninja. Non ce ne stanno. Sì, ma guarda questo. Sì, ma che belli i fortini così. Rocket riding fortini, raga. Gli edit trasparenti. No, raga, non c'è. Bro, non puoi dirmi ste cose. Non ce le faccio. Quello manco se ne è reso conto del fatto che aveva dietro il nemico. Non ha sentito la trappa. Bellissimo. Si giocava con le cuffie nell'altra stanza, raga. Esatto. Coi carrelli. No, mi ricordo, l'ho fatto una volta in live questo. Anch'io l'ho fatto con Leo. Ho fatto il percorso coi carrelli in un video. Lol. C'era ancora il parco giochi, era bellissimo. Che mancavano 40 secondi alla fine della parco giochi, guarda. E dovevi fare tutto quanto incastrato perfetto che sennò non riuscivi. Non ci credo. Bellissimo. No, ragazzi, qui veramente scenderà. Ma questo qua è Caesar. È Caesar comunque. Sì, lui ha fatto un sacco di mappe che hanno fatto arrabbiare. Non ci credo. No, di pochissimo ci è riuscito. Ninja? Cosa ha vinto Ninja? Non ho capito. Cosa ha vinto Ninja? Non lo so. Ah, quando ha giocato con Marshmallow. Ah, ok, 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 ok. Ci sta, ci sta, ci sta. Quando Ninja era ancora uno dei più forti, raga. Perché è qui e non riesce più a salire? No. Perché adesso lo buttano giù. Più materiali e gli sparano, no. Bellissimo. Nel vecchio capitolo, ragazzi, se si veniva in mare, si moriva subito al 100%. Non ci credo. Ha finito ufficialmente tutti i materiali. Se lo fanno cadere è morto. Gli fanno cadere i materiali. Sì, ma gli avranno dato tipo uno di legna più o meno. Ma ti immagini fare queste cose? Cos'è, no, mattone? Vedi che è uno? Non ci credo. Non esistono più queste cose, che tristezza. Ok, quando c'era la missione in cui bisognava ballare in quattro. E questo? Ah, e poi sentì un errore, mi ricordo, sì. Pensa che hype che c'era. Oddio, Thanos con 13 di vita. Thanos. Endgame. Vai, carichissimo. Vai, vai. Ma lo slasera è in volo. Mamma mia. Non ci posso credere. Come ha fatto, non lo so. Come ha fatto. E lo scar che fa... Cosa? Era un po' pagato, Fortnite. Lo sentivo, no. This game is trash. This game is trash. La stagione 5 con il cubo che faceva saltare. Non ce la posso fare, ragazzi. What do you mean, bro? Hai visto? Avevi detto che era da SJ e poi è entrato nei fades. Eh, bro, ma te lo spiego. Bro. Ma quanti che saltano sul cubo? Cos'è? Alcuni partono, sono dei razzi. È come quando vai tipo alle giostre. Mongral all'inizio. È uguale. Mongral. Swing, swing. Era ancora prima del swing, swing. Mi ha strecciato, tra l'altro, la risoluzione. Guarda come trappava i nemici. No. No. Ma quanto era già forte, Mongral? Mamma mia. Quanto era già forte? Secret Mongral. Outplayato. Outplayato, bro. Outplayato. Mamma mia. Guarda questo. Cioè, ti rendi conto che ha le meccaniche che noi abbiamo adesso? Sì, esatto, però ci piacerebbe. 80 anni fa. Guarda. Quanto era forte già. Ma neanche ora sono capaci di fare una roba del genere io. Ma? Ma è pazzo. Bro, ma stai scherzando? È il più oltre a tutto ciò. C'è una mira assurda. Ok, cypher picco. No. Aia. Bro. Bro. Si è fatto hittare dal razzo. Symphony era l'unico che riusciva a tenere testa gli edit di Nick. Era veloce. LOL. Cosa? LOL. LOL, bro. No, gli ATK. No, mi devi spiegare cosa stanno. Cosa? Stanno facendo una rotation con la ATK. Il tunneling qualche season fa si faceva così, ok? E si finiva sotto la mappa con Ragnarocco. Ok? Ma sono uno dentro l'altro, tra l'altro. Eh, sono Ragnarocco dentro tutti. Ma? E questo? Quando il cubo si girava e ci si faceva uccidere mettendosi sotto. 3, 2, 1. E tutti morivano. Tiffu! Vai, 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 vai. Ogni volta che c'è Tiffu tu fai così. Tiffu! Tiffu! E questo? Questo è Drift il favone. Attenzione, Drift. Attenzione, Drift alla riscossa. Sei di danno. Vabbè, sei di danno e l'ammazza. E niente ragazzi, il video termina qui. Se siete arrivati fino a questo momento del video, scriveteci nei commenti da che season avete iniziato a giocare a Fortnite. Io e Fra dalla 1. E vi ricordiamo di seguirci anche su Instagram perché mettiamo un sacco di foto ignoranti e di seguire anche le live di Fra perché praticamente è sempre in live. E per ora, noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi perché noi come sto oggi vi chiediamo al prossimo video. Fra saluta. Ciao belli. Bella.